Se uno sceglie di far parte di questa rosa sa che deve giocarsela con altri campioni. In questi tre anni di Milan mi sono serviti l'esperienza per imparare ad aspettare il mio momento e a sfruttare quel momento per dimostrare che sono un giocatore importante anch'io. Sì, sicuramente, però starà a me far cambiare poi il giudizio del mister. No, no, assolutamente no.